Ecco, magari di quel signore da giù in fondo si sta stuzzicando i baffi, se hai baffi, hai baffi, hai baffi, ecco quel signore, e il signor Piero Enrico, il presidente uscente dalla Prolotto. Piero Enrico, un applauso, un applauso. A questo punto, come vi dicevo, è un mondo molto bello, è un esperimento di magia, come voglio dire. Il nostro mago, Giorgio, Giorgio, per cortesia, un applauso, avremo bisogno ancora di una gentile signora che si presti, e ce la diamo qui, ma signora che si presti a questo luogo, a questo esperimento, un grande esperimento di magia, abbiamo questa corda, avrei bisogno che qualcuno del pubblico la provasse con me, usate le introduzioni, perché mi voglio ritirarla per constatare che sia una corda da altivista, perché è così. un uomo, un uomo, un santo Dio, se ne sono percettati, mi perdoni, provi a tirarla, non è elastica per nulla, d'accordo? La ringrazio molto. Un applauso al signore che si è prestato. Benissimo. Carissima, avrei bisogno che lei legasse di Margo. osservate questa operazione. In questo spiegelio di Magia viene effettuato con me, portami, e ad un binomodi. Signor Piererico controlli pure, che tutto sia un uomo di regola, un doppio nodo, grazie. Scorse, stringa. Lo faccio diventare buono, non si è bravo. Lo faccio rimanere io dopo, con quanto viene da un'altra parte. Lo faccio del mare. Benissimo, ecco. Mi faccio notare che anche questo tipo di legatura viene quadro con doppio nodo. Bene, proseguo pure. Sì. Stringa. Sì, stringa, quanto vuole. Ve lo lasci, ve lo lasci respirare, grazie. Che rigore, non dopo velocemente perché si brucia, perché è una corda di aneo. Perfetto. Doppio nodo. Basta. Noi siamo qui per indicare Giorgio, è stato tre del nostro messo, spero. Passione della ghiottina. Diretto discendente di Robespierre. Perfetto. Va, ecco, di dietro. Teniamolo pure come un salame. Della mia parte c'è che sono andato, mi sono scusate, sono andato. Ecco, mi lascio seguire la cosa. Mi lascio seguire la cosa. si trovo già, schierando velocemente la corda. Come si sente? Allora. Bene. Un salame. Una sorpresa. Prego sempre no di dormi e mi raccomando, in maniera tale che non si possa svegliare. Non si può svegliare. Perfetto. Ben pure, ben pure. Non lo prego. Non lo capisco. Un salame. Un salame davanti. Continuo. E' un salame. Un salame. Guardate. Un salame. Un salame. Un salame. Andiamo a casa. E' un salame. Un salame. E' un salame. E' un salame. Un salame. E' un salame. Dico, è difficile scattare, è abbastanza ben precisi di sopra. Prego? Sì. Lo lascio e me lo sapevare. Benissimo, il marco è pronto, la cortesia, una panoramica. Grazie. Leggiamo un doppio modo, sono tutti avanti. Bene, a questo punto, il caro pieno dico, spianza e mi porta a salutare tra le... ...dentro questo, questa gabbia. Bene, si metta un po' più avanti. Grazie. Domenico, la cortesia, grazie. Perfetto. Perfetto. Cos'è di bene? Ecco. Non ci vede? Ci vediamo del tempo. Ci vediamo del tempo. E' il marco, Giorgio, la cortesia. Ecco, venga dentro alla gabbia. Perfetto. Ecco, signore, siamo arrivati alla buona. Adesso si vedremo più la gabbia. Perfetto. Aveva? Così. Prezzo. Via. Grazie! 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 Grazie!